buongiorno l'elogio che gesù fa di giovanni il battista al capitolo 7 di luca versetti dal 24 al 30 è straordinario di lui egli dice che è il più grande fra i nati da donna di lui egli sottolinea che è più che un profeta di lui mette in evidenza il coraggio la forza di vivere una vita di sobrietà nel deserto e di praticare la giustizia battezzando coloro che vogliono intraprendere un cammino di conversione ma l'interesse di gesù non è quello di esaltare giovanni il battista bensì di cogliere come in lui è venuto uno strumento che prepara la via alla messia e che soprattutto mette ciascuno nelle condizioni di poter accogliere il messia che arriva insomma da parte di dio giovanni il battista rappresenta un ulteriore gesto di tenerezza perché è un uomo che ci fornisce uno strumento fondamentale per poter camminare verso il salvatore che viene quello della conversione il battesimo di giovanni infatti è battesimo di conversione battesimo che sollecita la decisione di cambiare vita la disponibilità ad aprirsi a una vita nuova e sono proprio i peccatori coloro che hanno riconosciuto in giovanni il dio giusto e hanno fatto tesoro di questa possibilità riconoscersi piccoli perché peccatori significa aprirsi alla grandezza che viene da dio dall'altra parte è sconcertante come possiamo da uomini e donne creature rifiutare questo dono immenso ed è straordinario considerare come il dio giusto e misericordioso condizioni la sua opera al nostro sì i farisei e i dottori della legge hanno rifiutato il dono della conversione attraverso il battesimo di giovanni in questo modo dice gesù hanno reso vano il disegno di dio su di loro ecco ciò che rende grande i piccoli del regno lasciarsi lavorare dall'opera di dio dentro di noi un'opera di bene un'opera di misericordia un'opera di gioia profonda e di pace i farisei la rifiutano manifestando l'enorme dignità dell'essere umano che ha il potere di dire no a dio e allo stesso tempo il dramma che ne consegue perché chiudersi alla relazione con dio significa chiudersi alla vita vera prepariamoci bene a natale dunque accogliendo la via della conversione manifestata in giovanni il battista e non avendo mai paura di dire il nostro sì alla proposta di bene di perdono di misericordia che viene dall'alto buona giornata